buongiorno amiche e benvenute sul mio canale allora oggi facciamo un tutorial che in realtà ho già fatto ma che più complicato da cercare perché vedremo insieme l'inserimento delle perle nelle lavorazioni ad uncinetto senza che la perla sia contornata da un filo o due in realtà ve l'ho già mostrato nella lavorazione della collana miledi ma mi rendo conto che a volte è complicato andarla a cercare ricordarsi dove sia e quindi preferisco fare in questo modo e fare un tutorial solo per quello però dato che ci sono tante nuove ragazze mi andava anche di spiegare un attimo la differenza tra l'inserimento classico dei cristalli e quello a rosario allora l'inserimento classico come avviene avviene inserendo i cristalli nel filo anche se poi in realtà sono i fili che sono nei cristalli e che facciamo una volta che li inseriamo ci andiamo a lavorare delle catanelle perché poi fondamentalmente i cristalli vengono inglobati dalle catanelle noi che cosa andiamo a fare andiamo a sollevare il cappio che deve essere più alto del cristallo poi prendiamo il filo e chiudiamo perché se noi facciamo il cappio molto stretto e quindi abbiamo cioè molto basso e quindi facciamo una lavorazione molto stretta verrà una lavorazione a zig zag molto molto brutta quindi il cappio deve essere sempre più alto rispetto al cristallo poi mi vado a fare una catanella vuota mi vado poi ad avvicinare un cristallo stessa cosa vedete cappio che va oltre prendo il filo e chiudo catanella avvicino il cristallo prendo il filo e chiudo ovviamente poi ognuna deciderà di lavorare un tot di catanelle tra un cristallo e l'altro però il consiglio che vi do perché spesso mi chiedete come faccio a non far girare i cristalli nelle lavorazioni il segreto principalmente oltre ad avere una mano regolare e aiutarsi tantissimo con la mano che non mantiene l'uncinetto è fondamentale che appunto il filo rimanga sempre dritto e soprattutto una furbata è quella di mettere i cristalli molto vicini al massimo distanziati da una catenella o eventualmente anche senza distanziare con le catenelle ovviamente verrà un consumo maggiore di cristalli ma è vero anche che verrà una una lavorazione più fitta più ricca di cristalli e quindi a mio avviso più bella allora come vedete con l'inserimento classico i cristalli sono laterali rispetto al filo quindi c'è il filo e poi di lato la pancia del cristallo dietro ai cristalli ci sono due fili passano due fili con questo tipo di lavorazione mentre nella lavorazione al rosario come facciamo prendiamo i nostri cristalli ora ne ho presi due a caso con un uncinetto più piccolo andremo ad inserire l'uncinetto all'interno del cristallo noi allentiamo un pochino il cappio ci agganciamo facciamo scorrere vedete facilissimo poi tiriamo andiamo sempre ad allentare il cappio e chiudiamo lo faccio di nuovo mi metto anche qualche altro cristallo mettiamo questi chiari va allora posso fare una catanella o meno non ha importanza prendo chiudo poi mi rinserisco dal dritto io ora sto lavorando tutto con un uncinetto da 0 90 ma poi vi dirò anche questo inserisco il cristallo mi rimetto sul dritto chiudo faccio una catanella voi dovete far sì che il cappio sia sempre dritto specialmente rispetto all'uncinetto alla lavorazione allora che succede nella nell'inserimento a rosario come vedete i cristalli sono centrali rispetto a questi altri vedete che qui sono laterali qui invece i cristalli sono tutti centrali il filo passa al centro per capirci del cristallo dietro c'è un solo filo dietro ai cristalli non ce ne sono due ok allora quali sono diciamo i fattori che vanno ad inficiare nella lavorazione la lo spessore del filo che usiamo la grandezza del cristallo e ovviamente gli uncinetti ognuna di queste tre variabili ha la sua importanza e può determinare o meno la riuscita della lavorazione a rosario perché perché se io utilizzo un filato che sia come il sorrento o non so più più spesso io l'inserimento a rosario lo posso fare con i cristalli da 6 non lo vado a fare con i cristalli da 4 perché se io inserisco a parte che lo 0 90 in questo caso entra ma io così vado a rovinare il filo perché ho difficoltà io sto tirando a far passare il cristallo vedete cioè mi passa ma vedete che cosa ho fatto ho rovinato il filo cioè noi stiamo comunque lavorando dei fili non stiamo utilizzando delle catene di metallo quindi è un peccato fare questa cosa per cui con filati tipo il sorrento io vi consiglio di fare l'inserimento a rosario solo con i cristalli da 6 mm tra l'altro io utilizzo l'uncinetto clover da 0 90 nel cristallo da 6 addirittura mi entra anche guardate l'1 e 25 sto utilizzando 1 e 25 se mi mette a fuoco e mi entra nel cristallo da 6 in molte mi scrivete che non non riuscite a far passare perché avete il vecchio ferro così si chiama quello della nonna perché gli uncinetti clover sono studiati appositamente e hanno una testa più piccola rispetto alla agli uncinetti classici quello che importa non è la testa fuori che però mi aiuta ad entrare e ad uscire con facilità dalle maglie ma quello che importa poi fondamentalmente è l'uncino cioè la parte questa qui di dentro che è quella che mi va a trattenere il filo è quello che determina la misura dell'uncinetto da utilizzare perché quando noi lavoriamo se il filo non rimane nell'uncinetto vuol dire che l'uncinetto è troppo piccolo ok vuol dire che che scappa fuori se invece mi rimane nell'uncinetto e non riesce ad uscire con facilità vuol dire che l'uncinetto è troppo grande per per il filo che stiamo utilizzando questo anche se utilizziamo cotone lana stiamo facendo un capo d'abbigliamento una borsa è una regola tra virgolette che vale in genere proprio nel mondo dell'uncinetto cosa succede che io posso fare l'inserimento a rosario con i cristalli da 4 e lo posso fare persino con i cristalli da 2 e mezzo ma devo utilizzare un filato molto sottile che può essere di quelli che conosciamo per dire il dragon o il florence e lavorare con un uncinetto molto sottile che sia uno 0 60 che ha una punta piccolissima come vedete o 0 75 parlo sempre di uncinetti clover io uso solo questi perché hanno il manico ergonomico vedete che hanno la parte piatta da una parte perché in questo modo noi praticamente abbiamo per forza l'uncinetto nel modo giusto lo teniamo nel modo giusto e studiato appositamente mentre altri uncinetti che hanno anche il manico quello un po cicciotto o il classico ferro della nonna come vi dicevo prima non hanno una una parte come questa quindi quando noi andiamo a prendere può darsi che noi prendiamo l'uncinetto ma in realtà la punta sta dall'altra parte invece a noi la punta dobbiamo averla in questo modo come ce lo presenta proprio l'uncinetto clover che lo prendiamo e siamo certe di lavorare nel modo giusto hanno un prezzo più elevato degli altri uncinetti ma io vi assicuro che ne vale la pena anche perché questo tipo di di manico ci preserva dalla dai crampi alle mani la mano non si stanca ve lo dice chi tiene l'uncinetto in mano anche otto ore al giorno quindi è una forma tra virgolette di pubblicità ma per noi stesse perché comunque si riescono a fare con facilità molte più cose detto questo sappiamo quindi le differenze tra l'inserimento classico e l'inserimento a rosario e sappiamo che dobbiamo utilizzare questa tecnica e possiamo utilizzare questa tecnica a seconda del filato dell'uncinetto e del cristallo o perla che andiamo ad usare allora detto questo andiamo a vedere il diciamo quello che più ci interessa che volevo farvi vedere oggi cioè come inserire una perla senza far passare il filo dietro allora io mi vado a fare ho messo dei cristallini così a caso inserisco i cristalli dopodiché mi faccio una catenella ad esempio e che succede qui potete prendere o il filo da pesca o un filato metallico qualsiasi altra cosa vi pare io adesso per esempio mi prendo un pezzettino di blistino perché ho questo a disposizione sono talmente pigra che non ho voglia di alzarmi e che vado a fare allora mi sono presa un pezzettino di filo qui ho il cappio mi inserisco il filo all'interno del cappio in questo modo ok io ho preso il cappio adesso i fili di questo le punte scusate di questi fili di questo filo che ho preso che ho messo a doppio le faccio passare nella perla in questo modo io posso far scorrere la perla perché vado a tirare ok cammina 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 la perla è arrivata da questa parte tolgo il filo mi inserisco l'uncinetto nel cappio e vado a tirare il cappio ovviamente per accorciare il filo e chiudo la perla ora la cosa che dovete fare attenzione ovviamente che in genere per fare questa cosa il foro deve essere abbastanza grande perché perché deve passare il filo per tre volte questa cosa cosa determina anche vi faccio vedere se io non metto cristalli mi determina che la perla poi mi si muove in questo modo quindi il consiglio che vi do è di mettere una perlina piccola appena prima e appena dopo il questa perla grande quindi un cristallino in modo tale che la perla non mi si muove più rimane ferma e come vedete non ha non ha fili ok è rimasta libera dice chiamiamola così mi faccio rivedere mi metto un ecco ho fatto ho messo i cristalli seguendo una sequenza un cristallino poi mi faccio qualche catenella sto facendo proprio a caso e non è non c'è uno schema catenella cristallo catenella mi possa andare a fare una catenella o non me la faccio è uguale prendo il filo lo inserisco nel cappio me lo metto a metà per così dire vado ad inserire le punte del filo nella perla quando escono dall'altra parte questa perla c'è un po' una perla di plastica c'è un po' un piccolo difetto vediamo se sono riuscita ad allargare mi vado ad inserire le punte ok e adesso le punte vedete sono uscite da questa parte io vado a tirare mia ovviamente mi allungo il lavoro me lo tendo con l'aiuto di questa mano e faccio scivolare la perla fino a che non arriva solo sul sorrento in pratica mi vado a togliere questo pezzetto di filo di blissino io avrò il cappio me lo vado a mi tiro questo filo in modo da ridurre il cappio faccio una catenella e poi mi vado a fermare subito con un cristallo perché altrimenti come vi ho fatto vedere prima il la perla poi mi balla mi si muove e quindi anche in questo caso vedete le perle sono completamente libere lo vediamo un'altra volta è veramente tanto tanto facile chiudo il cristallo faccio una catenella cristallino una catenella ed allento il cappio inserisco il filo quindi lo metto a metà dopo di che lo faccio passare nella perla vedete questo è il il blissino e lo vado a tirare quindi qua c'è il sorrento qui c'è sorrento e blissino mi tiro giù la perla quando arrivo sotto tolgo il blissino inserisco l'uncinetto tiro il filo e vado a chiudere e mi fermo con una catenella con con un cristallo e quindi abbiamo fatto così la nostra lavorazione vedete non ci sono fili dietro alle perle ok quindi la cosa importante è che noi quando andiamo ad a fare ad utilizzare questa tecnica il foro sia sufficientemente largo affinché il filo che stiamo utilizzando passi per tre volte all'interno della perla ok perché sarà il filo di andata più il cappio che ovviamente è fatto da due fili e questo è il risultato che otteniamo ovviamente potete farlo anche con altri filati tranquillamente che abbiano anche uno spessore più grande purché la perla non ripeto passi insomma tre volte ok la lavorazione come avete visto è davvero molto 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 semplice alla portata di tutte e quindi niente questo è un tutorial prettamente tecnico che mi avete tanto richiesto tra l'altro nei commenti scrivetemi anche se avete necessità di sapere altre cose altri trucchetti per delle difficoltà che incontrate vi ricordo che qui sul canale c'è una una playlist che si chiama proprio tutorial tecnici all'interno della quale ci sono tanti consigli utili che riguardano cose tecniche come ad esempio le chiusure che spesso sono un po la croce di tante ma in realtà sono molto più semplici di quello che si pensi allora io concludo qui il tutorial spero che sia tutto chiaro e vi saluto e ci vediamo settimana prossima ciao ciao